Giovedì 5 ottobre 1944. Il getto di granate è continuo. Attiva l'aviazione. Cattivo il tempo. A Cesena non si compra né si vende. Ha ragione, si crede che se si dessero la briga di vendere una casa vicino alla stazione o ad altro luogo colpito, ricaverebbero al massimo un pacco di sigarette. Arrivano sfollati da gatteo, cacciati dai rifugi che si erano apprestati. Abbiamo apprestato la cucina di sotto al primo piano in un piccolo magazzino e li mangiano e fanno da cucina.